Buonasera, stasera rifaremo il viaggio di Marco Polo, il viaggio che gli ha raccontato nel suo famoso libro Il Milione, 15 mila chilometri da Venezia a Pechino, attraversando deserti, steppe e altissime montagne e ritorno. Capiremo che cosa voleva dire viaggiare a quel tempo in territori difficili, senza strade, senza la possibilità di aiuti e di risorse, attraversando gran parte del Medio Oriente, valicando l'Himalaya per arrivare infine in Cina. Un viaggio straordinario attraverso paesi, attraverso culture diverse e scoprendo gli immensi territori dell'impero cinese, con le sue ricchezze, con la sua storia, la sua ricercatissima seta e anche le sue pietre preziosi. Ma assisteremo anche a scontri violenti, sanguinosi e a repressioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti!